Giovanni Angialeri, grande violinista, al di là di ogni ragionevole dubbio, come si dice, e non solo grande, ma anche grande notorietà acquisita, però noi in realtà ci conosciamo da sempre. Eh sì, i ricordi bellissimi di quando ero piccolo, i miei genitori che venivano a trovare i tuoi genitori, serate, passate insieme. Addirittura, diciamolo, perché ovviamente certe cose non si sanno, ma possiamo anche raccontarle, noi quando noi eravamo piccoli abitavamo a 150 metri di distanza, nella stessa via, per cui c'era proprio una vicinanza anche fisica, no? Sì, sì, infatti è una cosa bellissima che continuiamo a fare le cose insieme, ma anche a vederci, a parlarci, a scambiare le nostre opinioni e anche qualche volta i nostri ideali, i nostri sentimenti. Che guarda caso sono molto vicini. Ecco, sì. Non a caso. E sono cose rare, trovare un terreno comune di idealità, cose che forse appunto all'epoca dei nostri genitori, quando erano giovani, era più facile. Sì, erano anche più solide, più... Cioè c'era un'umanità che oggi si sta un po' perdendo, inutile negarlo, no? Eh, però noi cerchiamo di... Noi ovviamente, teniamo duro, siamo gli ultimi dei Moicani. Però io vorrei parlare subito, entrare in medias res, no? Cioè parlare dell'arte che è parte integrante della tua vita da no piccolo, piccolissimo. Perché io ricordo che addirittura i tuoi genitori o fecero fare o comunque acquistarono un violino piccolo. Perché quanti anni avevi quando iniziasti? Io ho iniziato a cinque anni, però il violino c'era già, perché i miei genitori avevano visto che il violino mi affascinava, sempre mi ha affascinato. Io non me lo ricordo addirittura, sono ricordi che io non ho e mi hanno detto loro. Certo. Beh, diciamo che noi abbiamo circa una decina d'anni, anzi anche un po' di più di differenza e io invece me lo ricordo perché ero già abbastanza ometto per ricordarmi di questa particolarità, di questo violino, di dimensioni ridotte per poter essere gestita dalle manine più piccole. E poi una cosa bellissima che quella me la ricordo bene è che ho chiesto io di avere un maestro che mi insegnasse. Cioè non mi è stato proposto magari così tra... Con un'induzione diciamo. No, no, è stato un episodio proprio per caso mia mamma, io ero con mia mamma, ho incontrato un suo collega, il maestro Francesconi, al conservatorio e io sono rimasto lì ad aspettare che finissero di parlare di quello che dovevano organizzare tra loro allievi e così e alla fine mia mamma mi ha detto, sai Giovannino, questo signore è un maestro di violino e io me lo ricordo che gli ho detto, ah allora perché non gli dici che mi insegni? Così. Certo. Ecco un'altra cosa che noi diamo per scontata ma forse molti così ascoltatori di questi incontri non sanno che sia i tuoi genitori che mio papà, è stato mio papà perché mio papà non c'è più, ma sono tuttora i tuoi genitori grandi musicisti e tutti pianisti, grandi interpreti della tastiera. Addirittura so che negli ultimi anni tua mamma ti accompagna spesso, anzi forse da sempre, quando fate concerti in duo violino e pianoforte, giusto? Sì, lei poi ha avuto questo peso di accompagnarmi ai concorsi. Ah, ecco. Che è una cosa, adesso io ancora non posso sapere cosa sia ma per un genitore avere quella responsabilità credo che sia abbastanza pesante. Infatti mio papà diceva, no no, mi accompagni tu. Certo. Sì e poi dopo abbiamo suonato tante. Beh insomma io ricordo ad esempio, sono migliaia forse, centinaia di sicuro forse migliaia di concerti, io ne ricordo ad esempio uno qualche anno fa dalla cappella del Quirinale per Rai 3, se non sbaglio. Ah sì sì, lì era mia mamma, sì sì. Infatti, infatti. E tua mamma è stata protagonista al pianoforte anche stanotte. Stanotte, esatto. Quando abbiamo fatto questo concerto per il Key Biscayne Piano Festival, terzo concerto di un ciclo di quattro che così mi è stato commissionato di realizzare così come omaggio dall'Italia per questa comunità americana a cui io sono molto legato e appunto stanotte. Eh io ti ringrazio tanto di questa occasione. Anzi approfittiamo perché a fianco a fianco qui sotto potete cliccare sul video che ovviamente resta disponibile, speriamo a lungo se non per sempre di questo concerto. Ma tu hai detto una parolina magica, concorsi, e adesso diciamo che tu sei uno, se non sbaglio, degli unici tre italiani ad aver vinto il più prestigioso concorso violinistico del mondo che è il concorso Paganini. Giusto? Sì. Cos'era il 97? 97. 97, sì sì. Beh, per un italiano soprattutto quando ho cominciato a studiare, facevo il conservatorio, ogni anno c'era la finale della radio di questo concorso Paganini e io ascoltavo e non ci pensavo. Però andando avanti con gli anni era diventato una specie di appuntamento fisso per me ascoltare e poi ho pensato che avrei potuto partecipare. E soprattutto questo fatto di questo compositore Paganini che è veramente un personaggio, è un artista, appunto un compositore secondo me è eccezionale. Naturalmente la parte appariscente di Paganini, anche le storie che circolavano durante la sua vita, eccetera, lo hanno reso molto noto dal lato esecutivo. Beh, lui era una star al suo tempo, no? Era una star assoluta, era una star assoluta, ma questa... anche le invidie, invidie di compositori che oggi ricordiamo, a Malapena, o violinisti che ricordiamo a Malapena, tendevano a puntare l'attenzione sugli aspetti appariscenti sul... le capacità funemboliche o gli effetti nuovi. Però, appunto, io ho subito visto, da quando ero 13-14 anni, così, ho visto una differenza totale fra Paganini e gli altri compositori violinisti successivi. Cioè, ho visto un'idea musicale, un'idea musicale che stava sempre prima della realizzazione con le dita, diciamo. Certo. Cioè, immaginarsi un violino, anche nuovo rispetto al passato, da parte di Paganini, che gli serviva per esprimere le sue idee musicali. E invece, nei compositori successivi, un immaginarsi come posso usare queste dita, queste formule, queste... queste cose un po' brillanti, come... come posso usarle nella musica? Questo è un concetto molto importante e è proprio distintivo, direi. E quindi avevo questa... avevo questo... mi ero fatto questo principio di studiare tutta la musica dei compositori non violinisti e quella di Paganini. Cioè, di evitare, negli anni in cui mi stavo formando, diciamo, proprio negli anni di formazione, di evitare la facile scorciatoia della formula tecnica violinistica che trovavo nei pezzi, seppur anche bellissimi, eh, di Wieniawski, Srasate, Ernst, quelli, di evitarli. E quindi di studiare Bravell, di studiare Tchaikovsky e studiare però Paganini. Perché in Paganini vedevo che non ci... non ci fosse mai un... un'idea meccanica, diciamo, che stava prima dell'idea musicale. Noi, tanti... scusa se ti interrompo, tanti anni fa... beh, tanti, insomma, un po' di anni fa abbiamo registrato il primo concerto per l'etichetta della rivista Amadeus. Sì. E io ricordo una tua lettura, che tutti possono andarsi a sentire evidentemente, che è abbastanza differente da tante altre incisioni. Ma sai che... ma sai che me lo dicono qualche volta, mi dicono questa cosa, ah, ma l'hai fatto in modo diverso. Ma io non me ne rendo... cioè io non me ne rendo conto. Magari se ascolto un altro posso trovare delle differenze, ma il fatto... cioè io studio e poi dopo quello che faccio mi sembra la cosa più naturale, più... anche ovvia qualche volta. Poi la propongo e mi sento dire, ah, ma è... ma è diverso. Beh, per me questo è l'aspetto positivo di un interprete, no? Andare per la propria strada, in qualche modo, no? Senza... cioè, basando la propria... il proprio percorso sul proprio studio e non sul confronto, no? Sì, poi io non penso mai a fare qualcosa di particolare. Cioè, mi sembra di vedere tutto quello che faccio già dentro... cioè, vedere. Bisogna anche imparare a vedere. Però mi sembra di trovare tutto quello che faccio dentro... dentro la musica. Sì, assolutamente. E c'è un'altra cosa interessante che ti caratterizza ormai da parecchi anni, che è questo aver affiancato spesso il tuo ruolo di interprete al ruolo anche di maestro concertatore e direttore d'orchestra, grazie anche a questa orchestra veramente bellissima che è l'Orchestra delle Venezie, no? Giusto? Che è una sorta di festival orchestra di fatto. Sì. Se vuoi raccontarmi che rapporto c'è fra il ruolo di interprete che pure ricopri, perché tu spesso suoni e dirigi... E devo dire che... l'ho trovato come una... come una continuazione ideale. Cioè, secondo me non è molto... non c'è una distinzione. Il fatto che capisca delle cose della musica e poi voglia metterle in pratica col mio violino o capisca delle cose della musica e voglia metterle in pratica con l'orchestra. Chiaro che l'orchestra ha dei mezzi espressivi eccezionali. E quindi è un... Tu sei molto rigoroso però anche in questo, perché io so che tu prepari in prima persona le singole parti, addirittura indichi spesso le ditteggiature più agevoli, distribuisci i suoni all'interno delle sezioni per ottenere determinati effetti. Cioè, non è un semplice prendere la bacchetta e muoverla nell'aria, giusto? Sì, però anche questo credo che non sia una cosa tanto... non dovrebbe essere una cosa tanto strana. Se andiamo indietro nel tempo, quello che insomma mi è sempre un po' interessato, cioè capire l'origine. come è nata l'orchestra nei secoli e il ruolo di chi doveva insomma stabilire un'interpretazione, perché purtroppo se non c'è qualcuno che stabilisce interpretazione va un po' finisce tutto. Mi viene in mente Veracini. Veracini diceva se non siete voi presenti all'esecuzione della vostra composizione, se non siete voi che praticamente dirigete, anche se l'atto del dirigere magari da vedere oggigiorno sarebbe diverso, se non siete voi dovete scrivere tutto, tutto a tutti, perché nel momento in cui manca il maestro tutti diventano direttori. E lui dice e chi vorrebbe l'arrosto? E chi vorrebbe l'aguazzetto? E alla fine diventa una confusione totale. Sì, ci vuole un'idea chiara. E poi ecco, questo fatto di questo fatto di segnare le singole parti naturalmente viene dall'aver capito un certo significato della frase e come metterlo in pratica. Ma se noi pensiamo, torniamo ai pianisti. I pianisti hanno le loro dita sotto il loro diretto controllo. Ma c'è una proporzione, una ricerca di ogni singola voce mentre suonano. E nell'orchestra se non si cerca di fare la stessa cosa si rischia di avere una cosa, si rischia di avere un effetto un po' come dire un po' piatto. Eh, forse comunque l'orecchio dell'ascoltatore sopperisce. Anzi, qualche volta un'esecuzione che non si sbilancia lascia la libertà della mente dell'ascoltatore a seguire questo, quel significato. Ma io ho sempre pensato che il mio ruolo fosse invece quello di essere chiaro nel sottolineare quello che avevo capito. Ho notato una cosa che posso anche magari far notare ai miei allievi che passano le generazioni ma una certa generazione che abbiamo la fortuna di poter ascoltare grazie alle prime registrazioni diciamo plausibili plausibili, ecco. ha sempre il suo perché e non è che andiamo avanti è un po' questo può essere anche un po' una tristezza cioè sentire certe interpretazioni del passato e vedere che hanno una forza e che magari sono riusciti a penetrare nella partitura e oggi non è che si possa capire qualcosa di veramente nuovo naturalmente che viene da dentro la musica perché fare cose nuove beh certo sono capaci tutti sì basta di ah qui ha fatto piano faccio forte qui ha fatto sentire la viola faccio sentire il cielo secondo me comunque oggi ci sono delle persone così delle persone con un rapporto autentico un rapporto proprio personale con la musica io ne ho conosciute magari non sono tra le più note le più non hanno questa diffusione beh noi sappiamo che spesso notorietà non significa qualità cioè sono due cose che a volte coincidono per fortuna a volte coincidono e a volte moltissimo non è che altre volte meno magari purtroppo ma tornando al rapporto adesso hai parlato dell'insegnamento ovviamente e inevitabilmente come è giusto che sia un grande maestro come te si occupa anche di così veicolare la propria conoscenza beh io l'ho sempre visto come una cosa che deve far parte della vita del musicista anzi per tanto tempo non ho potuto beh adesso è un discorso completamente diverso ma l'insegnamento in conservatorio secondo me è sempre stata una cosa molto bella una cosa speciale naturalmente grazie al fatto di averlo frequentato fin da piccolo poi nelle classi di miei genitori vedere proprio queste queste classi di allievi che imparano insieme che si aiutano una dimensione una dimensione poi appunto il trasmettere una cosa bellissima non potrei vivere senza beh io so che tu come anche altri tuoi illustri colleghi non insegni solo in Italia ma insegni ad esempio mi dicevi in Cina hai fatto molti corsi sì differenze nel rapporto una tristezza nel fatto di pensare agli allievi ai colleghi siamo un po' impediti purtroppo nelle comunicazioni differenze differenze forse rispecchiano quello che si vede un po' in generale in Italia le fortune che abbiamo non le non le consideriamo come con le opere d'arte e così con la musica la tradizione il fatto di avere dei maestri che possono che possono trasmetterti qualche cosa che a sua volta viene dal maestro dal maestro insomma una 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 certa continuità che non necessariamente è una continuità stilistica o o esecutiva ma in ogni caso una certa continuità che noi abbiamo perché abbiamo questa fortuna di essere qui e non la non la consideriamo esatto valorizzarla ovvio che si parla del di livelli che sono al di sopra del livello nostro del maestro e dell'allievo si parla di livello proprio più azionale eccetera mentre mentre in paesi che non hanno la fortuna di avere una tradizione che arriva direttamente ai grandi abbiamo parlato di paganini ma naturalmente lo sappiamo si possiamo moltiplicare l'infinito appunto paesi come la Cina il Giappone che non hanno questa cosa si magari hanno altre tradizioni ma comunque in questo ambito musicale sono in questa musica e la la coltivano l'apprezzano dal livello più alto che decide di spendere delle quantità esorbitanti di denaro per costruire le scuole per dotarle di tutti gli strumenti per reclutare i i docenti dal livello alto al livello dell'allievo allievo che ha un interesse una passione un amore per il suo strumento per la musica e cosa rarissima anche proprio per la funzione che ha la musica la funzione di arrivare all'anima delle persone allora questo interesse questo dare il giusto valore e questa passione paradossalmente ma forse no si trovano di più in paesi che non hanno nella loro storia avuto la nascita lo sviluppo l'evoluzione di questa musica e qui appunto usciamo dalla porta di casa e diamo un calcio al capitello di duemila anni fa perché tanto ci mettiamo la scodella del gatto come ho visto fare qualche volta ecco ma senti è ben noto il grande la metodicità dello studio e rigore l'applicazione dei popoli orientali cinesi giapponesi coreani probabilmente quindi quanto questo rigore ripeto e questa volontà questo studio molto intenso di tutti questi giovani orientali può aiutarli a compensare le lacune il gap ma io non ho parlato di gap ok interessante in effetti l'ho detto io ci sono dei miei colleghi che purtroppo quando vedono l'allievo adesso qua l'allievo che non viene dalla loro tradizione adesso non sto dicendo colleghi italiani certo sto parlando dei colleghi che magari si sentono i depositari delle tradizioni più si spostandoci un po' più verso nord Europa centro nord Europa sono i colleghi che li trattano con sufficienza no io sono io tu chi sei cosa vuoi capire è la cosa che mi fa veramente tristezza perché invece io lo vedo che possono capire che possono arrivare che possono arrivare a sentire proprio l'essenza della musica certo che certi strumenti bisogna darglieli bisogna dargli certi strumenti anche per non farli sentire con questo con questo con questo timore sempre ma avrò capito perché quello è un po' il rischio tu vai dal grande maestro alla fine dici ma io non capirò mai quello che mi insegna il maestro e il grande maestro certi grandi maestri magari ti mettono in quella soggezione tale per cui tu non hai nemmeno il coraggio di chiedere no scusi ma io qui non ho capito invece vedendo la sensibilità vedendo la sensibilità musicale si capisce che possono veramente arrivare all'essenza capire nel profondo ma naturalmente i musicisti ormai comunque questa cosa i musicisti ci sono dei musicisti cinesi o giapponesi su cui nessuno potrebbe mettere in dubbio anzi no già dall'epoca non lo so prima sono magari arrivati i giapponesi no Ozawa chi è che potrebbe beh anche Yoyoma per quanto sia Yoyoma eccetera poi adesso c'è tutta la Lang Lang eccetera Lang Lang che arriva dalla Cina eh chi può beh magari ritornando a Paganini magari c'è qualche invidioso che può dire ah sì però ma invece invece no sì poi per quanto tu chiedevi dell'applicazione nello studio l'essere zelanti dedicarsi sacrificare tanto tempo eccetera quello sì è vero che in certi paesi c'è di più come cultura però non è una diciamo prorogativa di certi paesi anche qui si può avere quel metodo diciamo Alfieri possiamo andare ecco stai andando un po' indietro nel tempo io penso più alla società attuale diciamo sì beh la società attuale beh comunque è un'osservazione che abbiamo sempre fatto la società magari un po' che si rilassa con le comodità magari meno stimolante da quel punto di vista ma io a qui approfitterei per tornare sul personale cioè alla tua fase di studio e preparazione perché io so che tu comunque hai avuto una vita cioè andavi al liceo hai fatto il liceo come la maggior parte dei ragazzi così italiani ma al tempo stesso tenevi in piedi questo studio che sicuramente era uno studio impegnativo ecco come come ricordi quegli anni questa questa dicotomia fra una vita da normale adolescente e invece da artista già ma devo dire che la scuola non mi è mai pesata non sì non l'ho mai sentito come un un impedimento sì certo magari mi alzavo alle sei di mattina perché prima di andare a scuola un po' di violino lo studiavo ecco però però la scuola non mi è mai pesata anzi forse adesso di rimpianti no di non aver in quel momento studiato abbastanza certe cose della storia della letteratura ecco eh sì comunque secondo me più cose si hanno da fare più si fa senti torniamo ai concerti tu sei una star incontrastata proprio nel mondo orientale in Giappone in Cina ricordo quando realizziamo Legend il primo disco insieme a cui ci fu un seguito incredibile in Giappone vuoi raccontarci un po' di tutta quella vicenda addirittura venne fatto un'edizione giapponese del nostro disco per la King International tournée eh sì perché adesso non ricordo esattamente io ho portato ho portato il nostro disco è passato di mano in mano è andato a finire una persona un audiofilo sai di quelli con la valvola del 1937 conosco bene così ecco a finire questo audiofilo che che era rimasto impressionato dal suono beh fa piacere mi pare di ricordare chi ce la dividiamo a parte uguali chi fece quella registrazione ecco ci dividiamo questo questo merito e quindi tramite un'altra persona l'ha fatto sentire appunto la King Records che è una prestigiosa etichetta internazionale con base a in Giappone eh sì sì e e tra l'altro sì una piccola cosa quel quel disco è stato prodotto dalla King Records non il ramo internazionale che mi ricordo che c'era appunto la produzione diciamo vera e poi delle produzioni internazionali che venivano con un altro un approccio un po' più no era un'altra proprio un'altra sigla un altro tipo di copertine eccetera quello lì è stato proprio preso dentro incorporato nel loro catalogo principale sì è stata una bellissima tra l'altro con una incredibile copertina che è realizzata in Giappone che vediamo adesso in sovraimpressione dove ti hanno atteggiato appunto in posa da samurai nella casa tipica oh sì ma devo dire beh secondo me per certe cose sono insuperabili i Giapponi per la cura che mettono sì perché loro si sono occupati di tutto beh ti hanno organizzato proprio una lunga tournée di presentazione sì sì certo siamo andati anche alla NHK a suonare in diretta così per presentare così sì poi mi ricordo il fotografo a proposito un fotografo tutto particolare penso in Magnacale perché aveva questa Assemblad su una trave di ferro lunghissima non so come l'hanno portata e aveva un supporto centrale e poi diceva guardava e poi diceva l'assistente metti un po' di peso di là avvicina un po' di qua gira qua insomma tutto poi anche per farmi la posa era chiarissimo parlava tutto in giapponese era chiarissimo diciamo no proprio un po' così un po' beh sono esperienze divertenti bellissime cose certo assolutamente e sempre in base sempre tornando al concorso Paganini credo tu abbia avuto l'opportunità anche di suonare il famoso cannone e beh sì infatti prima ci eravamo interrotti di questo parlando della figura di Paganini perché diciamo è veramente essenziale però c'è questo questo strumento sì questo mito no questo mito del violino di Paganini che il vincitore può suonare il violino di Paganini questa è una cosa che a un certo punto ho cominciato a sentire questo sogno questo sogno incredibile infatti quando quando sono andato in quella sala che adesso è cambiato c'erano due chiavi ai lati della stanza c'erano due funzionari che dovevano girare la chiave contemporaneamente tipo missili atomici e c'era il maestro Scrolavezza il liutaio meraviglioso che ha preso questo violino me l'ha dato in mano devo dire che l'effetto che ho avuto l'emozione che ho provato non è stata inferiore al sogno il sogno si è realizzato con qualcosa anche di più che non che non potevo immaginare ma quindi ci sono proprio delle differenze fisiche mi pare io so che anche delle misure un po' diverse ci sono le misure diverse quello si ma è il suono che è il suono il suono beh poi io me lo ricordo poi è stato anche sono stati fatti dei lavori dopo quando non è stato più il maestro Scrolavezza a curarlo però io me lo ricordo in quella versione che tra l'altro era molto rispettosa dello stato in cui era arrivato ricordo un suono che non ho mai più sentito in nessun altro violino siccome ci guardano anche stradivari anche 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 i violini più famosi no delle cose una cosa la prima cosa era la l'immediatezza del suono cioè appena l'arco diciamo si avvicinava alla corda suonava c'è sempre un minimo ritardo nelle missione più o meno certo i violini antichi meno i violini moderni più però c'è sempre lì sembrava non esserci e poi il rispondere al al voler fare timbri diversi noi con l'arco possiamo fare timbri diversi con il violino e lì era proprio questione minima minimo cambiamento venivano i timbri diversi e quindi mi ricordo che la prima cosa che ho fatto è stato l'adagio del concerto del primo concerto ho avuto anche delle come dire dei suggerimenti nuovi di interpretazione il fatto che il violino ti permette di fare anche delle cose diverse più 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 immediate più sottili potremmo forse dire facendo un discorso un po' esoterico che a questo punto magari Paganini una volta lasciata la vita terrena si possa essere in qualche modo rifugiato dentro lo strumento no? o no? beh è una bella immagine da da pensare se vogliamo rimanere sul scientifico sullo scientifico e non andare nell'esoterico si sa che un musicista un violinista che suona un violino per tanti anni da una certa forma al suono dello strumento è una cosa anche che si può spiegare dal fatto che le fibre del legno diciamo vengono sollicitate con certi timbri con certe vibrazioni piuttosto che con altre e anche e anche che chi suona veramente bene il violino ottiene sempre un suono come dire completo dalla corda non spreca nessuna energia della corda dello spregamento tra il crino e la corda non spreca nessuna energia tutta l'energia che emette va in creare suono e non rumore quindi ecco essendo Paganini probabilmente il più grande violinista di tutti i tempi oltre che questo grande compositore chiaramente ha lasciato una sua impronta e c'è anche un altro discorso che se lui ha scelto questo violino per accompagnarlo in tutti i suoi anni di concerti ed erano ed era una vita veramente frenetica se ha scelto questo violino vuol dire che ha riconosciuto una qualità particolare oltre alle cose che stavo dicendo prima che sono anche così le ho spiegate in un modo abbastanza pratico c'era anche un timbro un timbro di base del violino che era veramente come una voce e questo cioè noi pensiamo sempre almeno dovremmo pensare di cantare quando suoniamo il suono del violino è associato alla voce umana appunto e quindi sentire un timbro veramente vocale uscire dallo strumento che tu stai suonando è un'emozione per contro però mi ricordo anche dopo suonando la musica più più brillante più veloce che era un violino che non perdonava cioè se tu facevi un movimento con l'arco non appropriato ti rispondeva con uno sberleffo cioè anche come il suono era così immediato nell'uscire come a rispondere tutte le sollecitazioni anche i rumori quindi cioè doveva essere trattato veramente con la massima cura anche nel brillante nello staccato nei salti ecco una domanda che può essere una domanda conclusiva così anche per soddisfare magari delle curiosità di una parte importante del pubblico che segue questi questi miei incontri che è il cosiddetto pubblico audiofilo ecco mi piacerebbe una tua parola del tuo rapporto nei confronti del del suono riprodotto cioè fino a che punto tu litighi oppure trovi una pace nel confronto fra il suono reale cioè quello che tu emetti nella realtà e il suono che poi viene invece catturato e riprodotto senza entrare nel merito di chi registra come parliamo in termini un po' assoluti allora secondo me secondo me suonare uno strumento in una sala o in un ambiente o all'aperto e avere di fronte a sé l'ascoltatore è qualcosa a qualche cosa di particolare che che bisogna cercare di rincorrere allora la questione la questione di base è che la musica è un linguaggio che che vuole esprimere delle cose noi sogniamo la musica ormai praticamente solo di grandi geni e la musica esprime non solo emozioni non solo sentimenti ma qualche volta riesce a esprimere un'ispirazione a fare dei pensieri a riflettere a a cercare dentro se stessi qualche volta si diceva il messaggio no la musica di betone il messaggio della musica quindi emozioni sentimenti ispirazioni è qualche cosa che dovrebbe e noi dobbiamo cercare di evidenziare questa cosa dovrebbe arrivare all'anima di chi di chi ascolta riprodurlo ecco avere di fronte le persone ti mette anche in una in uno stato d'animo particolare perché comunichi con quelle persone quando quando si registra bisogna diciamo superare anche questo questo ostacolo però la questione di fondo rimane quella di riuscire a comunicare e quindi lo sforzo di di cercare di riprodurre come lo vedo io di cercare di riprodurre le dinamiche i timbri lo spazio è una cosa che secondo me è importante perché quindi la tecnologia sempre più evoluta aiuta in questo secondo me sì perché magari chi sa già cosa cercare nella musica può accontentarsi di una di una riproduzione diciamo appiattita in tutti i punti di vista e va all'essenza delle note di quello che c'è dentro eccetera però diciamo che noi suoniamo dobbiamo suonare per tutti e allora questo questi mezzi tecnici se vanno in questa direzione di fornire più informazioni possibili eh sì perché è chiaro noi con la dinamica con il timbro cerchiamo sempre di esprimere di 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 mettere in risalto è come come illuminare una grande opera d'arte pittorica cerchiamo con questi mezzi di illuminare la bellezza dell'arte che che stiamo suonando e quindi e quindi benvenga naturalmente io la vedo così certo poi magari ci può essere chi è interessato ad aspetti più più materiali magari si sofferma sull'analisi un po' astratta del suono ma allora se il suono diventa una cosa astratta si può scegliere di farlo diventare quello che si vuole a un certo punto e lì e anche qualche volta mi ricordo mi ricordo quando c'erano la prima epoca del cd che c'era chi aveva cominciato a giocare alla grande no con il suono degli strumenti però sembravano come specie di mostri non delle persone che suonavano allora andava contro poi quello che stavamo quindi in sostanza potremmo affermare fare questa affermazione secondo il tuo punto di vista che quindi l'impianto fedele deve essere fedele il più possibile a quella che è la tua alla tua comunicazione cioè a quello che tu vuoi comunicare quindi nella ricerca appunto delle sonorità delle dinamiche le timbriche gli spazi io la vedo così quindi secondo me parte anche da chi suona certo non parte dal microfono ah certo lì ti volevo portare lì ti volevo portare il microfono deve essere un medium limitato perché ovviamente come tutti i mezzi tecnici no perché appunto parliamo della riproduzione quindi la registrazione per quello dicevo microfono microfono per dire tutto l'apparato tutto l'insieme e poi quello che può essere per produrre e io secondo me appunto lo allargherei a chi sta suonando cioè mi piace pensare che suonando appunto davanti a quel microfono si possa immaginare di poi uscire da quegli altoparlanti sì quindi già appunto in chi suona in questo caso avere comunque un'idea di quello che poi sarà giusto eh sì e di pensare che questa cosa che sto facendo poi qualcuno la ascolterà e io vorrei trasmettergli questo e allora abbiamo la ascolterà senza guardarti cioè senza non senza guardarti senza avere il contatto fisico sì una cosa indiretta però mi piace appunto pensare che si possa comunque trasmettere quello che dicevamo prima e naturalmente ci vuole l'atteggiamento di chi sta suonando che vuole che attraverso tutto questo arrivi certo e poi dall'altra parte ci vuole un orecchio che abbia di chi ascolta con con apertura cioè di mettersi ad ascoltare veramente aprendo il cuore che qualche volta quindi cioè senza paletti senza paletti precostituiti così aprendo il proprio cuore e sentendo che cosa perché può essere un limite qualche volta uno va a cercare qualche cosa e allora se si incontra con quello che volevi dire tu bene se non si incontra magari allora non scatta il problema oppure bisogna essere così convincenti che attraverso tutto questo percorso di far di far diciamo risvegliare l'attenzione verso qualche cosa che non ci si aspetta magari devo dire che i tuoi dischi incontrano sempre con grande magia diciamo la grazie di questa ricerca di questa idea di questa verità io direi che possiamo anche concludere questa lunga ma interessantissima chiacchierata per cui ovviamente come dico sempre magari ci rimandiamo alla seconda puntata perché tante sono le cose da con tanto piacere con tanto piacere quindi saluti a tutti saluti e grazie